Accentro Golf Vacanze Viaggia con noi nei migliori golf resorts al mondo Emozioni che rimangono per sempre Vivile con Accentro Dal 1980, leader delle golf vacanze Cari appassionati di golf, buongiorno Appassionati di golf e non solo Oggi parliamo di vacanze Nello specifico parliamo del Marocco Vorrei raccontarvi di una destinazione magica Che si chiama Mazagan Mazagan è più di un albergo e più di un resort Perché è una delle destinazioni più importanti Da un punto di vista golfistico e non solo Di tutto il Marocco Si trova a sud di Casablanca Quindi è facilmente raggiungibile Da tutti gli aeroporti italiani E cosa offre di particolare questo resort? È una proprietà che si distribuisce In 7 km di spiaggia privata È una proprietà che offre un centro spa A livello mondiale Con più di 20 sale Con centri di trattamenti Dove si sviluppano tutti gli aromi E le bellezze dei trattamenti del Marocco Il Mazagan è un resort che va bene per tutti Va bene per una coppia Va bene per un gruppo di amici Va bene per la famiglia Ma va bene anche per fare delle golf clinico O delle competizioni di golf Chiaramente non possiamo non parlare di golf Mazagan è un luogo unico Perché è una delle proprietà più belle Possiamo dire golfisticamente al mondo Nello specifico la proprietà ha praticamente due percorsi 18 buche Uno è proprio all'interno Quindi si raggiunge con pochi metri a piedi dalla vostra stanza È un percorso disegnato da Gary Player Che rispetta tutte le caratteristiche del territorio Quindi le dune di sabbia Queste buche lungo l'oceano Molto molto belle Alcune Altre si sviluppano all'interno del bosco Il secondo percorso è confinante Quindi dista solo 4 minuti di macchina Il Mazagan offre una serie sconfinata di attività Delle bellissime passeggiate Ci sono i cavalli C'è il tennis Ci sono le biciclette Per chi è anche un appassionato di cibo Offre 12 ristoranti Ogni tipo di interesse culinario Lì può essere soddisfatto Si raggiungono facilmente varie località del Marocco Per fare delle escursioni Per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo appuntamento di vacanza Con Accentro Golf Vacanze Accentro Golf Vacanze Viaggia con noi nei migliori golf resorts al mondo Per informazioni e prenotazioni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti